Buongiorno ragazzi, vi mando questo piccolo video, tanto che oggi per me è una bella giornata che ho trovato lavoro. Sì, stasera alle sei e mezza vado a lavorare, sono felicissimo, ma veramente felice perché dopo un anno e qualcosa ero molto stanco di stare così a zonzo senza fare niente. E avevo preso una brutta decisione, avevo deciso praticamente, se entrò il 30 giugno non trovavo niente, di cambiare isola. Si vede che da qui non mi devo spostare perché questa avventura non vuole fa. E quindi sono contento, vi mando questo piccolo video così sapete che vado a lavorare. Sì, ristorante italiano, tutto italiano, bellissimo, si chiama La Rosa dei Venti e sta sul passeo marittimo. Qualcuno che è stato qua e mi segue si chiama Alex Tequila, praticamente vicino a Alex Banana, quindi sono due locali che stavano prima sul passeo marittimo. Si, sta lavorando, speriamo in bene, adesso per sé ora al giorno ma va benissimo, va benissimo. Per adesso è ok, non vedo l'ora di iniziare stasera, quindi vi sto mandando questo piccolo video che lo sapete, che torno al lavoro. E quindi è una cosa bellissima, spero che chi non sta lavorando lo trovi subito anche loro, perché è giusto che si torna al lavoro, si torna a rivivere, si torna a marciare di nuovo in cucina. Speriamo che vi posso fare qualche video in cucina, che mi lascia lo chef, fare qualche video, se hanno pazienza. Vi farò il video del locale dove si trova, che è vicino al mare, proprio di fronte al mare. Sì, è carino, piccolino, carino, però vediamo, vediamo com'è. Ragazzi, a presto, grazie che mi state seguendo e spero che... Questa è una piccola chicca che vi sto mandando, è un piccolo video particolare, perché torno al lavoro. Ciao ragazzi.